E' stata accolta la richiesta di giudizio abbreviato. Il gruppo del tribunale di Caltanissetta si è espresso in tal senso sulle posizioni del 59enne Luigi Lacognate del quarantenne Calogero Pirrone. Entrambi assistiti dall'avvocato Angelo Caffa, che ha avanzato la richiesta per il rito alternativo, sono accusati del tentato omicidio del 41enne Antonio Fabio Argenti. Venne raggiunto da diversi colpi di armada a fuoco tra le palazzine popolari di Scavone. In base sarebbe stato Lacognata, mentre Pierrone avrebbe bloccato Argenti. Un'azione pare ideata al culmine di tensioni personali. Per i PM però c'è la convinzione che possa trattarsi di dinamiche riconducibili ad ambienti della criminalità organizzata, visti soprattutto i precedenti di Lacognate e Argenti. Viene mossa la contestazione mafiosa ai due accusati di tentato omicidio. Saranno entrambi sentiti a marzo. Il favoreggiamento è stato invece addebitato ad Argenti. I PM sono convinti che abbia omesso di raccontare particolari importanti tutta la vicenda, oltre a rifiutarsi di sottoscrivere il verbale di sommare informazioni, rappresentato dall'avvocato Rocco Cutini. Per la sua posizione è stato definito un patteggiamento. Il ferito arrivò all'ospedale Vittorio Emanuele e fu sottoposto ad intervento chirurgico. Furono esplosi quattro colpi di pistola. Secondo i PM dell'antimafia l'intenzione era di uccidere Argenti. Comunque non riportò conseguenze gravi in aula per le accuse mosse alla Cognata e Pierrone si tornerà a marzo.